Ecco la nuova pensilina che alla stazione di Legnano proteggerà i pendolari durante qualche resta di quest'inverno. La storica pensilina montata nel 1860 era stata rimossa lo scorso giugno perché bisognava di un intervento di manutenzione straordinaria, intervento che poi si era rivelato più complesso del previsto, tanto che in autunno il Comune aveva sollecitato rete ferroviaria italiana a montare almeno una pensilina provvisoria per permettere ai pendolari di aspettare il treno all'asciutto durante l'inverno che si annunciava particolarmente rigido. Ci è voluto tempo, ci sono voluti più mesi del previsto, alla fine oggi hanno cominciato i lavori per sistemare i plinti che sorreggeranno la nuova tettoia. I lavori sono iniziati questa mattina e continueranno nei prossimi giorni fino a quando la pensilina sarà messa in opera.